You and me got a lot of history Bello a tutti ragazzi! Bene signora Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Pausa No pausa un caso La caramella la dobbiamo mangiare Io no, stanno io Vabbè Noi ci proviamo Noi siamo dei uomini No adesso provitiamo provitiamo Avete capito? Noi siamo dei uomini noi Ma sai che vomiteremo lo schifo Se vomito mamma non ti preoccupare Ciao mamma Comunque pratica Ci dobbiamo fare delle domande a testa E chi non sa la risposta Si caputano a me Ok Qual è il mio colore preferito? Ah vaffanculo Nero No nessuno ha detto Gallo Gallo E' il giallo E' il colore Dio mio signori Io faccio a cazzo Occhi chiusi Vinca bianca di nuovo Se non la bianca hai preso Vinca bianca di nuovo Ah sai che bianca mi sa che quella cattiva Perché l'avete già sentito buona Oh cazzo Pazzolini No ce n'è un'altra Allora andiamo fratello 3 2 1 No quello se è buona è bella il dentifricio quella blu Dentifricio E' un dentifricio E' un dentifricio è cattivo In teoria è cattivo il dentifricio Sennò quella buona è bella il blu Ma è buona E' buona E' buona ma che cura le bianche ci sono solo cose buone Come si chiama la mia ragazza? Croè Croè Mangia Ah io no Eh no 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 Non mi dico che devo mangiare io Eh no dai No dai Beh mi vado io Vai Io ho fatto una domanda facile eh Ce l'ho dovuto fare una domanda impossibile Beh Qual è il mio ricevo? Oddio a Catania Ma vaffaggina Dove c'era Lorenzo Fraga Università 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 Liceo Dammi una caramella Non perdiamo tempo Dammi una caramella Prendi una di queste merda Stai guardando No te la ce l'ho non Ah quella rosa la fa seguire Oh minchia quella rosa può essere vomito Quello è il calzino o Non vomito no No non è il vomito e il beggio arancione E' il calzino calzino vai 3 2 Si tutti i frutti si Che schifo la mia di friggio Ma è buono No fa schifo Va bene Si ricomincia il giro Sorella vai Com'è? Votate poi perchè è il più pazzo dalle 3 Ma comunque Sono io La domanda facile Il mio film preferito Titanic No Minchia cosa stavo facendo Questa cosa cazzo No Walking dead No Walking dead era una serie tv Era una serie tv comunque La grande bellezza No No È il mio film preferito No l'amore ti faccio la stessa chiesa L'attimo è più gente L'attimo è più gente Cazzo di film Oh dove cazzo sono queste band Cazzo di film Non ci vedo Io ci vedo sti tazzi Vammi prende una cazzo di cosa No Una bibi No C'è la rosa no E se quella lì è buona Eh no No ma poi si vede Prendi quella marrone No ma si vede quella schifosa E quella marrone No 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 raga Tutte così vi giuro Prendi quella marrone che buona Vai Chiudi gli occhi Buonissima quella c'è lì Mangiala mangiala Oh che schifo Anche la tua cattiva vero No No Fannolone di merda schifoso bambino No no la tua no Però è strano perché non sono Io pensavo essere disgustosa La tua uova marcia La tua uova marcia Io pensavo essere disgustosa No il mio è bianco No il mio è bianco No non l'hai presa la bianca No può essere tutti i frutti bu Fanno mi faceva schifo come me Che coloro l'hai presa? Eh quella è Eh ma no se puzzava era Ma non puzzava eh Si abbassa tutti i frutti Ma era una merda Eh ste caramelle fanno schifo Questo grepa Ho preso un uovo marcio Dai fratello fai verso i domani Il mio cibo preferito Kebab No il cazzarico couscous No no Citta Noo Pasta Pasta il forino Ma che c'è Ha lasagna Ma che pasta al forno Ma che pasta al forno A casa mia ha lasagna No 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 Guarda che La pasta al forno No vaffanculo La pasta al forno La pasta al forno No la pasta al forno Per me è la lasagna Oh raga La pasta al forno per me è la pasta al forno Non gli ho indovinato Minchia ma tutte bianche le prendo ste merde E se sicuro che un cazzo di pannolino fiettuzzo non lo prendo Si perchè non è mai uscito il pannolino Non so che lo è tanto Vabbè fregate per me signori E' buona No No non è buona C'è prima il pannolino No No Beh 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 Vai a te frate Mi sgatti Mi sgatti Qual è la mia marca di telefoni preferiti La tua marca di Cosa? Di telefoni Alguna marca giappone Non è iphone 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 Quella lì è digi Stamminchia ma non è iphone Sony Samsung Io non ho risposto Eh no Eh che hai detto Samsung Io ho detto non è Samsung Eh infatti Sbagliassi E sai cosa? E ho detto il cibo per carne Ed è sicuro che fa il cibo per carne perchè sono stati uscito il buono Ma anche il cioccolato fa schifo No No Oddio Che schifo è il panni Oddio sa di pollo marcio Fa schifo proprio Perché tu hai mangiato il pollo marcio Ok magari Ma fa schifo perchè fa schifo Madonna mia Che puro schifo Oh ragazzo Herriette lo do Eh 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 Sei intossicata raga Oh merda Aiutatemi E' schifosissima Intossicata Ma cazzo la ceda questa merda di challenge Non lo so Eh come si chiama? Herry Potter Dai mi scaccio Ok dai 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 dovete dire almeno 3 serie tv che guardo Cosa? Beee Cosa cosa? Almeno 3 serie tv che guardo No Wait 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 Allora Vampire Diaries Lo guardo ghost whisperer ghost whisperer no quella tra l'altro è buona, non lo guardo più no, non lo guardo più no, aspetta, se le tv dove c'hanno degli gnocchi tutta con le guardie sono boni vampire diaries l'abbiamo già detto non puoi dire le stesse che lui che palle però, non so come si chiama quella che guarda di prima non è che vabbè quella che guarda mamma mia vai chiudi mi scoccio anche vai prendi beh è quella cattiva ma tutte fottutamente bianche quelle gialle rosa che è? no, non è il vomito rosa è stinchi e soz no, rosa potrebbe essere no, arancione no, minchia ce ne sono vai oh, ti amo dio buona no, no questa è cattiva vedi, schinchi e sox quel che ho preso io è il passiero di mio nonno è il cassino si puzzolento beh la mia serie tv preferita qualchi dubbi no, non lo guarda io non lo so io non lo so io non lo so, non lo so io non lo so io non lo so citatemi almeno un antipasto, un primo e un dolce siciliano Allora, un arancino E questo è il piatto principale, vabbè Poi, un antipasto Aspetta, ci sta anche il suppli Non sapete cosa è il suppli, il suppli è siciliano Vabbè, zitta, non la conosco Il dessert, come si chiamano? Cannoli, ecco Il cannoli e poi il dessert Il primo, il dessert Non fraintendetemi, io sono romano, vengo da Roma Quindi, un primo è la pasta nera No, vabbè, l'hai già detto il piatto di arancino Un antipasto Eh, te l'avevo detto Un antipasto Mi fate vedere una cosa Insalata Vai, comunque tu scegli i tre piatti Non, 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 non so Ci manca con noi, non è niente a pigli di narano Vabbè, veniamo l'arancione Dai, io voglio te, però No, arancione che cos'è? Vabbè, non ne frega niente, prendo bianco Ma, questo è già Oddio, nooo No, 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 no Dai, te l'ai 20 20 signori mi vedo non penso così mi dovete vedere quindi siamo un pazzo razzista se questo video vi è piaciuto mettete un like in su condividere con i vostri amici e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video ma ci vuoi ascoltarmi molto, bye, bye, belli, venga del coglione, no oh coglione, cosa, a strancio